Non avemmo neanche il tempo di dirle addio. Mia madre è morta. Conoscete quel detto, se la vita ti dà limoni, fai una limonata? Beh, è un detto davvero stupido. Io sono la più grande. Quella che ha più responsabilità di tutti, ma in pratica nessuna gloria. Farà molto freddo là fuori. Vuoi che aspettiamo mentre prendi una copertina? Papà è una sorta di eroe di un film d'azione. Andiamo! Il suo lavoro è salvare vite umane. Mio fratello Scout è il classico figlio di mezzo. Mia sorella minore Taylor. Un vero genio, il che è super irritante. Grazie per questo cibo. E per la zia Charlie, che è super fantastica. Senti, vuoi che torni lì? Meglio ancora, trasferitevi voi qui. Che ne direste di un trasloco? Turtle Island Bay con la zia Charlie. Questa è la nostra nuova normalità. Vivo in un acquario a Turtle Island Bay. E ragazzi, ragazzi, non siamo soli. Oh mio Dio, un pinguino! Andiamo. Gestiamo il dolore in modo differente. Hai qualche problema, bamboccio? Dillo ancora! Che vorresti fare? Signorina West, venga con me. Tutti metabolizziamo una perdita in maniera diversa. Non ti azzardare a usare tua madre come scusa per gettare via la tua vita. Che età avevi quando hai perso tua madre? Mi spaventa l'idea di perdere i miei figli. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Non li perderai. O almeno, non per sempre. Vivo in un acquario. È una piccola città, ti capisco. No, intendevo che vivo letteralmente in un acquario.